Dal 1996, ogni anno, il 21 marzo, primo giorno di primavera, in Italia si celebra la giornata della memoria e ricordo delle vittime delle mafie. Il premio nazionale Paolo Borsellino, in collaborazione con l'Associazione Nazionale Magistrati Sezione Abruzzo, ha organizzato tre incontri a Pescara, Montesilvano e Teramo sul tema. Gli uomini passano, le idee restano e continuano a camminare sulle gambe di altri uomini. Nel Terramano l'evento si è svolto nell'Istituto Falcone Borsellino di Villa Vomano. Penso che sia doveroso per chi ricopre certi ruoli o comunque semplicemente per chi ha un'età più avanzata, ricordare quello che è stato vissuto nel corso dei decenni in questo paese e quello che sottotraccia comunque c'è sempre e sempre un pericolo per accrescere la cultura della legalità che si misura con le cose grosse ma anche con le cose della quotidianità. È importantissimo capire la storia recente e non degli ultimi decenni di questo paese che certamente deve essere conosciuta perché senza memoria non c'è neanche futuro. Sì, l'importanza della memoria. Attraverso un escursus molto significativo siamo partiti dal raccontare e far vedere loro video relativi all'assassinio di Aldo Moro fino appunto alla strage di Capaci non tralasciando due donne fondamentali vittime dell'andrangheta, Rea Garofalo e Rossella Casini. Credo che una scuola come la nostra intitolata proprio ai giudici Falcone e Borsellino abbia così anche il privilegio di illuminare la propria offerta formativa curricolare accogliendo delle iniziative come quella di oggi. Quindi la questura che entra a scuola, incontra i nostri studenti delle scuole medie di Villavomano, Cona, Cermignano e Basciano e presenta loro tutto quello che è un percorso di azione congiunta contro le mafie di ogni tipologia della nostra nazione. Sicuramente è una giornata importante in cui ricordiamo le vittime delle stragi, in particolare Falcone e Borsellino a cui tra l'altro è intitolata questa scuola e la dimostrazione che vogliamo appunto trasmettere agli studenti, alle nuove generazioni e ai quali valori di giustizia affinché ci sia una vita migliore. Quindi è onere anche delle nostre soluzioni sensibilizzarle affinché si educano al rispetto delle regole, della legalità e di una vita migliore.